Bentrovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpa. Gli satellite ci mostrano un po' di nuvolosità sull'estremo ponente della regione, nell'entroterra di Levante, ma intanto l'anticiclone sull'Europa occidentale garantisce condizioni di tempo stabile sulla nostra regione. Per la giornata di oggi, venerdì 26 maggio, sereno poco nuvoloso, residua, nuvolosità nelle prime ore del pomeriggio sui rilievi, in progressiva dissoluzione, venti deboli in prevalente regime di brezza, mare poco mosso, massime in diminuzione. Domani, sabato 27 maggio, stabile e soleggiato, locali addensamenti cumuliformi sui rilievi nelle ore centrali della giornata, generalmente innocui, venti deboli in prevalente regime di brezza, tendente a disporsi dai quadranti settentrionali sulla costa, da sud nelle zone interne, mare poco mosso o quasi calmo su tutta la costa, temperature minime saranno in diminuzione, mentre le massime sono previste stazionari. Chiudiamo con il tempo previsto per la giornata di domenica 28 maggio, ancora tempo generalmente stabile e soleggiato, possibili locali addensamenti cumuliformi sui rilievi nel corso delle ore più calde, con alta probabilità che non ci siano precipitazioni. Venti deboli con frequenti brezze, tendente a disporsi da nord-est al mattino, da nord al pomeriggio, mare poco mosso o quasi calmo, temperature minime in aumento, mentre le massime saranno in diminuzione. È tutto con le previsioni del tempo di Arpal, gli aggiornamenti su www.arpal.gov.it e sulla pagina Facebook di Arpal. Buon fine settimana a tutti! Grazie a tutti!